Ciao ragazzi, bentornati sul profilo di My Personal Trainer. Oggi faremo insieme un upper body workout che potrete fare davvero con pochissima attrezzatura. Vi servirà soltanto una banda di resistenza e il vostro corpo. Quindi questo è un workout fantastico per chi è in vacanza. Iniziamo! 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 Ragazzi, adesso facciamo un veloce plank challenge per lavorare anche gli addominali. Siete pronti? Iniziamo! Siete pronti? Ragazzi, grazie mille per aver seguito me e my personal trainer. Speriamo davvero che questo allenamento vi sia piaciuto e che sia utile per chi è in vacanza e si vuole comunque mantenere attivo. Come avete visto vi basterà davvero un piccolissimo spazio e una banda di resistenza. Vi auguro una fantastica giornata e alla prossima. Ciao!